benvenuti al telegiornale di tele nuova no non è un errore ho la mascherina in questo appuntamento del sabato che visto che in studio non c'è nessuno posso togliere e quindi però è un esempio che vogliamo dare eh anche oggi rispetto a quello che sta succedendo per quanto riguarda il proliferare di nuovo del covid diciannove anche nel nostro territorio usare la mascherina assolutamente specie quando non si può essere a distanza di sicurezza dagli altri per difendersi dal contagio dunque un'edizione del sabato che come avrete potuto ben immaginare apriremo proprio con quella che è la situazione del covid